è Enit si chiama Enit questa bella girl tanto bella tanto brava e tanto buona sta su twitter sta su twitter e mostra la sua bella lingua perché lei ci lavora con la lingua brava brava cara Enit brava anche tu devi arrivare alla fine del mese e ci vuoi arrivare lavorando con la lingua cara ma la concorrenza è sterminata cara è sterminata perché sono tante le girl che vogliono arrivare alla fine del mese lavorando con la lingua cara cara per cui per cui e che chi intende lavorare come te come te finisce presto nella miseria più nera e poi deve andare a mangiare un piatto di minestra alla caritas cara 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 Enit cara Enit allora Enit sai cosa devi fare mettiti nelle mani di Serafino Massoni cara io ti faccio prendere una laurea con 110 e lode poi ti faccio vincere un pubblico concorso e ti faccio diventare professoressa di ruolo in qualche liceo mettiti nelle mani di Serafino Massoni cara cara bella Enit capito rivolgiti a Serafino Massoni eccole qua le opere di Serafino Massoni